la corte penale internazionale spiccava un mandato di cattura nei confronti di Gheddafi, del suo figliolo, del capo dei servizi segreti eccetera quindi diciamo ovviamente un utilizzo super politico della giustizia a cui ci può interessare a pochi di noi nell'occidente bianco ma il resto del mondo non le frega assolutamente un cazzo allora Bernabè dice che c'è però mi devi mandare un messaggino a quell'indirizzo Skype ok quindi fra pochino arriviamo con lui appunto principalmente appunto Fefo Academy che appunto vi ripeto seguite insomma sono stati un po' anche dei principali diffusori anche modern monetary theory affini insomma in Italia hanno avuto un ruolo abbastanza importante facendo formazione organizzando anche eventi eccetera eccolo qua ce l'abbiamo lo chiamiamo allora devo spengere questa accendere questa datemi un secondo eccolo qua oh finalmente uno che c'ha la camera che si vede allora aspetta che qui devo alzare il microfono che bello avere gli ospiti attrezzati diciamo allora dammi solo un secondo che devo caricare il tuo NDI qua dentro eccolo qua perfetto ole ed ecco a voi Matteo Bernabè ciao Matteo buongiorno buongiorno Giuliano buongiorno buongiorno e grazie per l'invito allora intanto facciamo intanto una cosa tre parole proprio su Fefo Academy chi siete cosa fate eccetera e poi si parla alle notizie del giorno no allora siamo siamo una società di che fa consulenza e diciamo divulgazione e informazione economico finanziaria diciamo che il nostro il nostro core business in qualche modo è sono videocorsi sostanzialmente formazione in ambito economico finanziario quindi questo è poi io in particolare non curo diciamo quella parte ma curo la parte più informativa più divulgativa infatti diciamo sono un po' il volto social di Fefo Academy ecco e la voce di Fefo Academy di un po' un'idea sul sud perché appunto anche te fai un'altra rassegna stampa poi fate altri esatto un po' il palinzesto di Fefo Academy per chi ti volesse seguire e dove esatto su allora da inizio diciamo anno dalla fine dell'anno scorso da dicembre abbiamo iniziato una rassegna stampa quotidiana da lunedì al venerdì che va diciamo la mettiamo online intorno alle alle 9 9 e un quarto insomma è online più che altro è un podcast la diffondiamo in podcast su tutti i servizi podcast e poi c'è anche una versione diciamo video in cui facciamo vedere le prime pagine sia sul sulla nostra pagina facebook di appunto Fefo Academy ci trovate come Fefo Academy sia su su YouTube ecco quindi questo questo è quanto e poi settimanalmente realizzo o interviste un po' più di approfondimento su sulle cose diciamo più importanti da un punto di vista economico finanziario che sono successe appunto nell'ultima nell'ultima settimana o video diciamo brevi video nei quali vado un po' a smontare quelle che sono no quei luoghi comuni che vengono tirati fuori eh praticamente quasi ogni giorno da televisioni giornali eccetera sempre legati ovviamente all'ambito economico ecco eh una su tutti il debito pubblico che è in eredità sulle spalle dei nostri figli una puttanata pazzesca che ogni tanto ritorna e noi ovviamente l'andiamo l'andiamo a smontare ci sono diversi video nel nostro archivio in cui parliamo parliamo di queste questioni insomma ultimamente persino la la buona Ellie Schlein eh nel suo programma ha scritto proprio esattamente queste parole in perfetto accordo con Giorgia Meloni ecco quindi totalmente bipartisan totalmente bipartisan Allora hai già adocchiato qualcosa da segnalare nella rassegna di oggi? Allora per quanto per quanto riguarda per quanto riguarda noi eh ovviamente per quello che ci interessa a noi di Feff Academy chiaramente la questione Credit Suisse ha avuto un insomma un ruolo una risonanza molto importante il sole 24 ore eh ho visto la prima pagina. Aspetta un attimo sai che il sole oggi non ce l'ho? Ecco ecco fatto ecco fatto. E allora raccontacelo senza immagine un attimo perché no è niente non 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 mi arriva. No semplicemente il sole 24 ore dà l'apertura del del giornale con con Credit Suisse perché il problema ora è venuto che diciamo è scoppiato tra diciamo domenica sera e lunedì è sulla scelta del governo del governo delle autorità svizzere no di eh praticamente eh favorire gli azionisti rispetto agli obbligazionisti. E' un po' questo il il la bomba no che 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 sta starebbe per scoppiare perché insomma ci sono tanti che vanno eh che che stanno cercando insomma che che eh sicuramente andranno a fare ricorso contro questa cosa. Cos'è successo sostanzialmente che ehm eh infatti il sole 24 ore apre dicendo Credit Suisse Svizzeri sotto accusa pioggia di ricorsi degli obbligazionisti. BC e DEBA prendono le distanze dal salvataggio che privilegia gli azionisti perché è un po' questo è un po' questo è un po' questo il punto no quando si va a salvare diciamo eh quando quando interviene intervengono ehm eh le autorità di solito in questi casi è perché insomma la situazione è messa piuttosto maluccio. Quindi di solito di solito almeno diciamo in eurozona funziona che nel caso in cui ci sia una banca che eh eh se la se la se la sta passando male diciamo diciamo la priorità è diciamo eh sono sono gli è è data sostanzialmente agli obbligazionisti in qualche modo no quindi no prima i correntisti poi gli obbligazionisti gli obbligazionisti subordinati e gli azionisti che sarebbero quelli che dovrebbero pagare i primis nel momento in cui la banca va no no? eh in eh c'è qualche problema che è anche logico da un certo punto di vista ecco eh in Svizzera praticamente hanno ribaltato questa questa cosa ci sono gli azionisti gli obbligazionisti subordinati che sostanzialmente eh non 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 riceveranno praticamente nulla eh indietro e quindi quindi è un po' questa è un po' questa è un po' questa la questione infatti scrive il sole dubbi e polemiche dopo il maxi salvataggio da 3 miliardi di franchi del Credit Suisse meno 55% lo ieri a Zurigo tra l'altro da parte della rivale UBS i governatori delle banche centrali europee hanno criticato la scelta di azzerare i bond AT1 che sono appunto queste obbligazioni subordinate per 16 miliardi emessi dal Credit Suisse stesso mentre uguale trattamento non è stato riservato agli azionisti che comunque hanno diciamo eh registrato una perdita sostanziosa eh però eh diciamo una parte del capitale salvo in qualche modo per questo bc per questo bc e deba hanno preso le distanze dal metodo svizzero i fondi pensioni elvetici minacciano azioni legali eh sì anche tutta questa storia caro Giuliano ci fa capire che è tutta una questione politica alla fine che se la politica vuole si fa in un modo se vuole si fa in un altro cioè nel senso è è un po' tutto mh così eh nel senso eh nel senso i paletti tecnici vengono comunque rimossi alla bisogna cioè spesso queste cose ci vengono presentate no come del tutto naturali o frutto di calamità che su cui non si può agire diversamente ecco questo è un caso perfetto per farci capire che se la politica vuole può anche diciamo ribaltare un un una cosa che si dava per quasi per scontata no quindi come questa gerarchizzazione del della tra obbligazionisti azionisti eccetera può essere anche ribaltata con una decisione con una decisione politica insomma la banca centrale svizzera che l'anno scorso ha chiuso in perdita eh oggi mette 200 miliardi a disposizione del del credit suisse per poter diciamo portare a termine quest'azione di salvataggio anche quella è una è una scelta politica come fu una scelta politica quella di far fallire Lehman Brothers insomma fu un po' fu un po' no quello quella la questione del colpirne uno per educarne 100 quella di Lehman Brothers poi che poi ha fatto scuola insomma negli anni successivi anche se dalle parti degli Stati Uniti hanno imparato ma non diciamo tantissimo almeno per le quanto riguarda le banche medio piccole vista insomma la deregolamentazione che c'è stata negli ultimi anni poi il caso di SVB l'abbiamo visto e poi ora appunto c'è First Republic che poi ieri appunto mentre appunto esatto ma non ho capito ieri come andato i titoli di credit suisse a un certo punto sono stati sospesi per la via di queste trattative non ho capito perché c'era un partito di mercato americano ho visto meno 35 e poi non l'ho più visto su credit suisse diciamo che è abbastanza normale quello che è successo ieri sulla borsa perché credit suisse perché diciamo che l'accordo con UBS prevedeva un acquisto da parte di UBS delle azioni a un prezzo stracciato e quindi il mercato naturalmente è andato verso quel prezzo immediatamente in apertura cioè è una cosa è una cosa normale insomma come succede quando c'è per esempio un'oppa annunciata da una da un'azienda su un'altra azienda di solito le azioni si riportano al livello dell'offerta insomma del di acquisto ecco quindi questo questo è successo un po' ieri ecco chiaro chiaro e invece no questo lo dicevo per dire che invece First Republic Bank nonostante appunto la cosa avevamo anche letto nei giorni scorsi del gruppo di salvataggio eccetera invece ha continuato ad andare giù a fittone anche ieri ha perso un 40 per cento qualcosa del genere quindi ma guarda anche lì anche lì è una questione politica nel senso che ne abbiamo parlato bene non nel caso specifico di First Republic Bank però partendo dal caso di svb e di credit suisse abbiamo parlato ho parlato l'altro giorno con il nostro esperto Francesco Ruggeri che è un altro collaboratore di Feff Academy c'è l'intervista che ho fatto quindi la potete recuperare sui nostri canali social in cui punto andavamo a sviscerare questa questione dicevamo sostanzialmente che poi a un certo punto le autorità dovranno decidere chi salvare e chi no perché sostanzialmente e poi il discorso è allora vale tutto cioè possono fare qualsiasi cosa le banche prendersi dei rischi giganteschi il cosiddetto azzardo morale ovviamente non dovrebbe essere così quindi le autorità dovranno gestirla in una maniera tale da far capire che non è che la banca centrale è lì il governo sono lì per salvare gli investimenti rischiosi di certe banche chiaro ci sono delle banche che hanno un ruolo sistemico e quelle naturalmente come credit suisse peraltro e quindi quelle probabilmente non falliranno mai si dice too big to fail no quindi ci saranno sempre l'autorità che attraverso delle decisioni politiche salveranno poi questo questo genere di istituti di credito ecco che che hanno un ruolo sistemico poi alla fine chiaro chiaro questa cosa qua ci sono altri articoli che volevi segnalare ma guarda mi sembra di no perché poi anche gli altri gli altri gli altri giornali più o meno stanno su questo su questo diciamo taglio qua chiaramente il sole 24 ore gli ha dato un'apertura più importante però volevo farvi notare o ieri ho letto un post di marcello fo che secondo me è un giornale ex presidente della rai mi sembra sì ex presidente della rai giornalista che ci pone un po no una riflessione ci dovrebbe far fare una riflessione lui dice banche salvate le regole di mercato valgono solo per i piccoli è quello che stavamo dicendo adesso cioè effettivamente per le regole del mercato per del meraviglioso mercato credit suisse sarebbe dovuta fallire come svb peraltro che vabbè la stanno diciamo prendendo un po per i capelli però credit suisse sarebbe stato un caso nel quale la banca sarebbe dovuta fallire in realtà eh abbiamo visto che insomma eh gli interventi dell'autorità da una parte con eh l'altro colosso svizzero UBS sono riusciti a a in qualche modo a salvarla anche se ci sono una marea di obbligazionisti piuttosto incazzati chiaro chiaro su questa cosa qua più che i giornali italiani avevo cominciato a vedere un po di prime pagine di stampa internazionale e c'era ovviamente insomma financial time e bloomberg che sono giornali che seguiamo un po di più c'era diversa cosa di diverse cose ad esempio qua c'è il titolo financial time eh il CEO di wall street cercano un nuovo piano per first republic dove appunto si ricostruisce un po la vicenda di first republic che ricordiamo appunto era stata eh diciamo le le big l'avevamo detta anche come cosa tutto sommato anche quasi positiva nel senso che il resto i grossi del sistema bancario si erano messi d'accordo scusate per sostanzialmente salvare first republic che alla fine diciamo una cosa un po un po meno schifosa di quella che vediamo appunto normalmente perché almeno chi ha in mano diciamo e chi fa profitto dal mercato finanziario giorno per giorno ha detto per stabilità per prodomo nostra di solito ci fanno i salvataggi il pubblico e noi ne prendiamo i benefici insomma interveniamo prima che evidentemente diciamo il governo americano ha delle difficoltà a entrare a gamba tesa su tutti le medio piccole che potrebbero avere problemi già il salvataggio il bail out in qualche modo di silicon valley bank aveva giustamente scatenato tutta una serie di proteste poi se volete entriamo anche un po più nel dettaglio insomma quindi in qualche modo si erano presi un pezzettino finalmente anche un po di loro responsabilità però non ho capito bene perché perché poi non l'ho seguita nel dettaglio dopo quell'annuncio là questa cosa qua non ha rassicurato per niente i mercati e quindi first republic bank è continuata a crollare impietosamente ieri è crollata di un altro 47 per cento e quindi qui dice giusto per leggervi un piccolo incipit lo google trasleto come il solito che è più bravo di me a tradurre è soprattutto più veloce e dice che gli amministratori delegati delle banche di wall street stanno cercando di elaborare un nuovo piano per first republic dopo che un ancora di salvezza da 30 miliardi di dollari non è riuscita ad arrestare una forte svendita delle azioni dell'istituto di credito i dirigenti la cosa un po paradossale se non ho capito male matteo è che questo intervento ha diciamo rassicurato i mercati più per le altre regionali che infatti ieri non sono andate male ad esempio il mercato americano che non per first republic evidentemente hanno detto l'hanno colta come dire se altri regionali che non sono messe così male avranno attacchi eccetera appunto bank rush quello no con corsa gli sportelli il sistema scusate il sistema è pronta a intervenire anche quello privato quindi diciamo c'è qualche motivo di resilienza in più però evidentemente anche valutato che first republic bank questa cosa qua non basta e probabilmente hanno valutato che è ormai è la frittata è un po fatta non so come altro leggere non so cosa ne pensi te matteo insomma di questa roba qua ma guarda allora in realtà il caso specifico non l'ho non l'ho approfondito sicuramente sarà una cosa da fare in questi giorni con anche con francesco ruggeri quindi vedremo di tornare ci sopra il fatto è che qui probabilmente non c'è stato ancora un intervento diciamo deciso delle autorità pubbliche in qualche modo negli stati uniti infatti sono diciamo intervenuta una cordata di banche private sul sulla questione quindi probabilmente c'è stato anche quello cioè il mercato ha scontato anche un po il fatto che a differenza di silicon valley bank dove c'è stato un intervento pubblico piuttosto importante perché intervenuta la yellen che il segretario del tesoro intervenuto powell che il governatore della banca centrale è intervenuto penso mi sembra anche biden stesso sulla sulla questione quindi probabilmente c'è stato anche questo aspetto che non è stato diciamo apprezzato dal mercato da questo punto di vista però come ti dicevo prima la questione e poi alla fine vedere se poi ci sarà qualcuno che dovrà lasciarci le penne in tutta questa storia perché dovrà fare da scuola per tutti gli altri alla fine no come come è successo con con il caso di leman brothers dipende anche dal dalla grandezza poi del del certo sistemica o non sistemica insomma tutto questo la cosa interessante da sottolineare secondo me è che appunto siccome rialza le tassi di interesse mette tutti sotto stress in questo modo per diventare sistemici probabilmente basta anche molto meno di quanto non bastava diciamo 15 anni fa ecco quindi diciamo anche una first republic bank che non è assolutamente sistemica parliamo appunto 5 6 miliardi di modalità di capitalizzazione sul mercato e insomma nel senso asset penso su 100 miliardi una roba del genere quindi diciamo sotto la soglia che dopo le riforme del 2018 di 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 trump che diciamo un po indebolito il dodd frank act e sostanzialmente proprio ben al di sotto della soglia di quelle considerate sistemiche ma appunto qual è la soglia dopo la quale questa sistemica dipende molto dalla tenuta complessiva del sistema e qui la tenuta complessiva del sistema è molto questionabile proprio perché questi obbligazioni depreciate in pancia ce l'hanno tutte in quantità mostruosa e non sono i soli asset a essersi depreciati insomma perché tutto quello che è legato in qualche modo all'immobiliare ora negli ultimi mesi la mercato immobiliare è stato in questo asset sta continuando a pompare eccetera però è una bella bolla molto difficile da giustificare in qualche modo quindi sono tutti asset che alcuni sono già fortemente depreciati altri sono fortemente a rischio ecco comunque chiaro poi tu giustamente menzionavi la deregolamentazione che c'è stata nel 2018 effettivamente anche questo ha portato insomma alla situazione insomma in cui siamo oggi per queste banche medio piccole volute da trump ma fu frutto anche di un accordo bipartisan quindi ci sono dentro tutti poi alla fine in quella compreso il senatore frank che era quello che appunto aveva fatto firmato insieme al senatore dodd due democratici anche un po progressisti ecco così che avevano firmato quell'atto lì nel 2010 c'è la della legge che poi appunto adottata dalla dall'amministrazione ad obama insomma è resa legge e perché frank addirittura ha appoggiato il cambio della sua stessa legge e frank era uno del top management di signature la terza che è fallita quindi diciamo c'è un po come al solito insomma il lobbismo in salsa americana è sempre un po più sfacciato anche che danno un po più sì 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 decisamente decisamente poi non so cosa se se avevi qualcos'altro perché io ho adocchiato qualcos'altro sulle prime pagine stamani perché ho dato una scorsa veloce come faccio al solito prima di fare la nostra rassegna stampa sulla prima del messaggero aspetta prima di passare alle altre cose volevo l'ultima cosa sempre sulle banche ah sì sì vai vai tranquillo siete il conduttore siete il conduttore c'avevo sott'occhio questa cosa qua a parte che vi segnalo su bloomberg c'è un articolo sintetico ma secondo me fatto abbastanza bene che riassume le quattro principali crisi che ci sono state no che a questo punto sono diventate cinque perché sono appunto silver gate ve la ricorderete la primissima silicon valley bank la più famosa signature bank quella subito successiva poi credit swiss e poi appunto first republic ma è una cosa proprio riassuntiva per chi non ha avuto tempo diciamo di approfondire troppo mi sembra fatta abbastanza bene proprio per diciamo for dummies ma soprattutto era interessante la prima pagina l'home page non la prima pagina del wall street journal appunto dove appunto si annuncia che appunto il ceo di jp morgan chase jamie diamond sta appunto conducendo queste trattative per appunto dopo questa iniezione di 30 miliardi trovare un piano nuovo insomma per affrontare la crisi di new first republic ma appunto nel grafico pubblicato in prima pagina si vede anche che diciamo c'è un discorso anche proprio interno al di là c'è una pressione sistemica l'abbiamo detto mille volte però poi ci sono anche dinamiche molto più di come dire piccole e microeconomiche per cui ad esempio c'è stata questa esplosione assolutamente della new york community bank corp che è un'altra banca media che capitalizza in borsa diciamo sui 5 6 miliardi asset ben al di sotto i 100 miliardi eccetera che invece capito mentre tutte le regionali soffrivano anche se ieri hanno ripreso pochino ma rispetto a quello che hanno perso niente di che questi appunto lunedì ieri in apertura di mercati si sono fatti un più quasi 30 27 per cento che poi rapidamente è diventato più 33 per cento e quindi diciamo bisognerebbe anche poi diciamo si sommano a tutti i problemi sistemici eccetera di governance di cordate di cazzi e di mazzi si insomma anche la semplice speculazione insomma che è sempre in agguato e che di solito moltiplica diciamo gli effetti devastanti invece che ovviamente diminuirli o attenuarli finito con le banche vai pure sulle altre cose no allora vedevo sempre per quanto riguarda questioni economiche la prima del messaggero che l'unico un po che dà evidenza questa a questa notizia qui la mette proprio in apertura di prima pagina non so se ce l'hai da mandare da mandare stamattina mi cogli in castagna su tutta anche il messaggero nazionale non ce l'hai ma perché non è normale questa cosa qua ci sono tutti i locali osti a rieti roma umbria è niente no il nazionale non c'è boi ma perché va bene niente c'è anche questa ce la devi dire ve la racconto io ve la racconto io allora praticamente cosa è successo stamani stamani sul messaggero apre proprio con il titolo bollette basta aiuti per tutti no come se la crisi fosse fosse passata e e e l'inflazione non ci fosse da un giorno all'altro basta basta aiuti per tutti ritorno parziale agli oneri di sistema si lavora un decreto entro la settimana tariffe in base ai consumi con importi crescenti tanto il prezzo del gas cala luce giù del 20 per cento e questa ovviamente una notizia che ci fa piacere però è chiaro che no questa notizia andrebbe inserita in un contesto un po più ampio secondo me naturalmente secondo la nostra visione un po più allargata un po più macroeconomica e vedere quello che è stato che sta facendo il governo più in generale no nel senso che l'altro giorno hanno annunciato questa rivoluzione fiscale che sarebbe una contro riforma fiscale poi alla fine e chiaramente dicono meno tasse parlano tutti di meno tasse in realtà come come spieghiamo sempre per chi ci segue sui nostri canali siamo inseriti in un contesto nel quale se il governo ti dà con una mano ti deve togliere e un pochino di più con l'altra ok quindi tendenzialmente un po negli ultimi trent'anni la tendenza è sempre stata questa infatti i dati sull'avanzo primario insomma non lasciano spazio a molti dubbi in questo senso qua significa che il governo se taglia le tasse deve diminuire la spesa pubblica per esempio tagliare la sanità in qualche modo o in questo caso tagliare gli oneri no rintrodurre gli oneri di sistema sulle bollette per esempio e naturalmente questa è un po la logica che contraddistingue un po tutti i governi che si sono succeduti da destra a sinistra qui non facciamo molta differenza insomma anche perché parlare di questi che sono stati al governo negli ultimi anni come sinistra è difficile insomma per almeno per quanto per quanto la per come la penso io insomma definirli di sinistra è piuttosto complicato ecco visto quello che è stato fatto quindi dicevo tornando alla questione delle bollette se il governo un giorno annuncia la riduzione delle tasse dall'altro naturalmente deve togliere con l'altra mano e quindi ecco il ritorno degli oneri di sistema sulle bollette quindi probabilmente ci sarà un piccolo incremento in questo senso qui come ci sarà probabilmente l'altro giorno lo leggevo sul domani mi sembra un articolo in cui si diceva che probabilmente anche le accise aumenteranno cioè il governo che si è rappresentato di fronte agli elettori dicendo taglieremo le accise sia Meloni che Salvini questa cosa l'avevano detta ovviamente sono al governo e aumentano e aumentano le probabilmente re aumenteranno le accise questo è per farti capire insomma per farci capire che siamo purtroppo in un sistema con i famosi sacri vincoli di bilancio di Bruxelles che ci porta naturalmente a navigare col pilota automatico inserito sostanzialmente e il pilota automatico sostanzialmente questa roba qui ecco e figuriamoci oggi caro Giuliano che il il patto di stabilità è sospeso quindi figuriamoci cosa potrà succedere quando rintrodurranno il patto di stabilità ecco oggi se ne sta discutendo a livello europeo insomma di questa di questa possibile riforma quando secondo me la riforma migliore l'hanno già fatta cioè due anni fa due anni e mezzo fa a sospendere il patto di stabilità infatti le economie hanno reagito insomma alle restrizioni del dovute al al covid ecco certo certo senti poi vedevo che appunto c'era tanto oggi che in qualche modo io appunto ho detto anche se sono d'accordo anche se appunto il pulpito non mi convince però l'allarme sull'utilizzo dei fondi pnrr l'avete seguito un po questa vicenda qua perché in effetti diciamo come al solito si accumulano ritardi non i confondi europei si è sempre fatto così si accumulano una marea di ritardi poi si fanno tutti i progetti all'ultimo momento che vuol dire che all'ultimo momento ci infili qualsiasi cosa non c'è mai per quanto sia ristretto nessuno noi abbiamo sempre contrastato l'idea il pnr l'occasione del secolo no assolutamente però insomma su soldi ecco nel senso li puoi utilizzare anche lì diciamo facendo un po i moderati diciamo li puoi utilizzare anche sono pochi non cambiano il mondo però li puoi utilizzare più o meno bene e noi arriviamo sempre diciamo abbiamo questa cosa qua che in qualche modo un po è dovuta proprio al fatto che ci manca personale e anche insomma guerre varie intestine insomma per arrivare avere un po di visione strategica almeno di medio termine ma poi appunto c'è anche proprio la roba che si arriva all'ultimo buco un po non so quanto sia voluta per cui alla fine pur di sfruttare quei soldi lì riesce a far passarla qualunque perché tanto nel senso non ci sono progetti alternativi seri che possano essere canterizzabili in senso in tempi utili avete seguito un po sta cosa qua ma anche perché mi reaggancio un attimo a quest'ultima cosa che hai detto anche perché negli ultimi decenni insomma la politica industriale è inesistente in questo paese quindi questa può essere vista da come dici tu come un'opportunità però dall'altro dall'altro è comunque un irrigidimento diciamo così del di quel pilota automatico di cui dicevo prima quindi draghi l'aveva anche detto molto esplicitamente cioè io me ne posso anche andare però il in qualche modo il pilota automatico inserito il pnr in tutto questo contesto ha un ruolo importante ecco e poi come giustamente dicevi tu la questione del personale cioè i ritardi che si accumulano eccetera sono dovuti in buona parte anche al al personale no anche qui andiamo a smontare una delle solite dei soliti luoghi comuni per cui la pubblica amministrazione c'è gente troppa gente troppi dipendenti pubblici eccetera non è vero assolutamente andate a vedere il numero di dipendenti pubblici in confronto ad altri paesi e vedete insomma il che l'italia ha un numero molto più basso infatti si dovrebbe anche intervenire in quel senso lì insomma lo abbiamo visto vabbè chiaramente anche negli ultimi anni con 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 la sanità le nodi che stanno venendo che vengono sempre più al pettine con appunto la carenza di medici eccetera però anche la carenza di personale diciamo all'interno delle pubbliche amministrazioni porta anche a questi a questi risultati ecco assumete assumete stavo guardando un attimo se è l'apertura dei mercati siamo alle 8 e 58 quindi ancora no niente come non detto come siamo messi sono le 8 e 58 quindi almeno ancora un pochino e invece a parte questo tornavo un attimo sulla invece tornavo un attimo sulla geopolitica perché ieri ne abbiamo un pochino non ho parlato nel nel mio video di ieri e un pochino abbiamo anche approfondito ieri sera comunque vi segnalo visto che comunque non c'è paywall non c'è niente il titolo principale è su Asia Times che secondo me è un articolo bombissima di Spengler che è questo pseudonimo che non si sa a chi si riferisce ma insomma noi lo seguiamo da un po' su Asia Times è sempre insomma deve essere un pezzo grosso ecco non è uno qualsiasi dove appunto parla di questa riunione che si è tenuta sotto diciamo il sistema organizzativo è quello che si chiama No Chata Mouse per cui è tutta diciamo è una serie di regole che appunto sulla base delle quali si fanno questi incontri ad altissimi livelli questo appunto coinvolgeva un centinaio di funzionari di vario rango diciamo quadri intermedio alti di varie amministrazioni dove appunto sostenevano in qualche modo quanto fosse in difficoltà l'Ucraina nel conflitto quanto fossimo in difficoltà noi a fornire le munizioni necessarie soprattutto quanto il discorso che dicevamo anche ieri di quanto tutto il personale addestrato dalla Nato tra il 2014 e il 2022 che in qualche modo era stata un po' una delle chiavi diciamo della capacità di resistenza dell'Ucraina in tutta la prima fase della guerra ora si è benamente messo male perché sostanzialmente gli stili sono morti tutti o comunque non sono più in grado di combattere e quindi diciamo c'era una visione abbastanza catastrofista delle condizioni attuali dell'Ucraina che soprattutto volendosi infilare in buona parte anche essendosi concentrata diciamo sul fronte di Bakhmut in qualche modo sia dal punto di vista dell'attrezzatura sia dal punto di vista del materiale umano proprio messo a repentaglio quella che dicevano sarebbe stata la controffensiva di primavera delle forze armate ucraine e e questa cosa qua portava appunto al grosso dei partecipanti a questa importante riunione confronto a sostenere che in effetti Zelensky potrebbe essere veramente interessato a un piano di pace cinese perché in qualche modo diciamo sul fronte è molto in difficoltà la soluzione che prospettano loro però è in realtà è quella di scalare ulteriormente quindi mandare molte più armi comprese armi a medio lungo raggio che siano in grado di attaccare il territorio russo di superare il tabù dell'attacco in territorio russo che quindi diventerebbe bersaglio come gli altri addirittura anche di fare di comporre un'armata appunto di combattenti stranieri che vada ad assistere diciamo soprattutto per quel che riguarda diciamo i quadri intermedi le perdite che hanno avuto gli ucraini quindi sostanzialmente diciamo l'Ucraina è nella merda come siamo così diciamo non si riesce andare avanti di un millimetro la soluzione alla terza guerra mondiale in qualche modo questo sostanzialmente era quanto emergeva da questo confronto qua quindi vi invito a leggerlo perché è veramente un articolo molto molto ben fatto invece guardavo anche un attimo il New York Times dove appunto questa cosa qua non l'ho seguita non sono in grado di dare in set vi dico solo i titoli insomma un po' e gli occhielli perché appunto c'è questa cosa qua di Trump che ha appunto annunciato il fatto che era in attesa diciamo di ricevere insomma un mandato di comparizione credo che siamo a questo a questo stadio qua e dice il governatore De Santis ha detto appunto ieri finalmente si è espresso che non si era ancora espresso rispetto a questa prospettiva qua e ieri appunto invece si è espresso anche se non ho capito esattamente in che senso quindi potevo anche stare zitto ma comunque c'è diciamo un'attesa di Trump ha proprio invitato le persone a scendere in piazza eccetera quindi il New York Times non segnala particolari disordini in giro eccetera però c'è da stare attenti a questa compo questa questa reazione potremmo leggere un attimo cinque righe di incipit dell'articolo del New York di uno dei due articoli del New York Times su questa vicenda dove appunto si dice che Alvin Braga il procuratore distrettuale di Manhattan ha insistito sul fatto di non prestare attenzione alla politica quando decide se accusare qualcuno di un crimine ma la dichiarata riluttanza del signor Braga a considerare le ramificazioni politiche delle decisioni del suo ufficio non ha placato la tempesta che si stava preparando intorno a lui ora sembra pronta a diventare il primo pubblico ministero a incriminare un ex presidente accusare l'ex presidente Trump in relazione a un pagamento in denaro a una porno star catapulterebbe il signor Braga sulla scena nazionale sta già affrontando il ripensamento anche da parte dei presunti alleati sulla forza del caso e sulla saggezza di portare il signor Trump che ha negato ogni illecito ha iniziato ad attaccare il signor Braga un democratico come l'ultimo di una serie di pubblici ministeri politicamente motivati determinati a farlo cadere l'ex presidente ha ottenuto il sostegno dei suoi alleati repubblicani al congresso e oltre ultimo passaggio che vi leggo è che dice che è improbabile che il signor Braga sia entrato nella corsa per il procuratore distrettuale aspettandosi di incriminare il signor Trump quando ha annunciato la sua campagna nel giugno 2019 c'erano pochi segni che l'indagine allora dormiente dell'ufficio avrebbe portata ad accuse penali e il signor Braga 49 anni che ha vissuto a New York quasi tutta la sua vita aveva una visione per l'ufficio che non aveva nulla a che fare con il presidente comunque insomma siamo diciamo un po' e come abbiamo detto diciamo da un certo punto in poi l'Italia ha cominciato a dettare i tempi di questi sviluppi del teatrino della politica con Berlusconi e quindi ora ci imitano insomma sia magistratura politicizzata da una parte presidenti puttanieri dall'altra diciamo siamo diventati un po' quelli che dettano la linea del dibattito e che alzano il livello su scala internazionale Matteo c'hai altro da segnalarci? No stavo vedendo la borsa che apre in rialzo stamani almeno Milano trainata dalle banche naturalmente perché pare che l'intervento ieri della della bce della lagarde sia stato diciamo tranquillizzante c'è anche da dire ma l'hai seguito ci sei di no perché no 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 non so niente dell'intervento della lagarde no sostanzialmente la lagarde ha ha detto che insomma che il sistema bancario dell'eurozona è solido effettivamente la regolamentazione è un po' più stringente rispetto a quella degli Stati Uniti e della Svizzera da questo punto di vista quindi da insomma i mercati hanno creduto alle parole della lagarde poi chiaramente ha ribadito insomma che ci sarà da parte della banca centrale tutto il sostegno possibile insomma al settore ecco da questo punto di vista quindi di solito quando parla la banca centrale in maniera così netta e chiara di solito i mercati reagiscono reagiscono bene ecco chiaro che la lagarde non è che ci abbia abituato negli ultimi tempi insomma da quando si è insediata a uscite molto felici da questo punto di vista visto quello che insomma successe già alla prima conferenza stampa quando stava iniziando tutto il casino del covid ecco però insomma vediamo che almeno ultimamente negli ultimi giorni insomma sembra che i mercati stiano dietro insomma le parole della banca centrale. Qui vediamo appunto Fuzzi Mib che era stato quello che aveva accusato decisamente di più negli ultimi giorni è quello che cresce un pochino di più oggi. Sì ma perché il discorso lì è semplice perché praticamente diciamo il settore bancario all'interno della borsa in Italia è molto forte rispetto cioè le proporzioni all'interno del listino sono molto più importanti insomma quelle per quanto riguarda il sistema bancario e quindi è anche per questo che quando c'è un problema con le banche la borsa di Milano scende di più e quando diciamo il problema sembra passato poi sale di più degli altri più o meno il discorso è questo qua. Certo cioè noi diciamo che insieme cioè gli unici non bancari, bancari perché poi bancari bisogna metterci sempre dentro gli assicurativi infatti abbiamo visto no BKC, ING nel senso nelle settimane e nei giorni scorsi quanto hanno accusato quindi diciamo un comparto no Michael Hudson dice il fire no come comparto complessivo e diciamo a parte i bancari e gli assicurativi in Italia di grosso rimane Enel, Eni, Leonardo e ultimamente ho visto però è piccola come capitalizzazione anche se insomma sul mercato dice la sua perché viene tredato molto molto c'è stato tutto un discorso su Saipem che non ho capito perché a un certo punto ho cominciato quando vedevo i bancari vedevo anche Saipem meno 10, meno 9, meno 8 che poi ha rimbalzato però non so la dinamica in base a cosa insomma c'è stata questa cosa qua però in effetti diciamo tra i 10 titoli principali delle borse italiane o 7 sono assicurativi ai bancari mentre appunto in Germania ci sono tutti i gruppi industriali che avevano elementi molto diversi anche durante i giorni un po' più pesanti di questa roba qua. Vabbò direi che abbiamo detto tutto Sì l'unico del Global Times no c'è sempre quello lì Posso aggiungere una cosa in chiusura che l'ho vista sul Financial Times stamani che andava un po' a smentire insomma quella narrazione no per cui Putin sarebbe isolato a livello a livello mondiale con sanzionato eccetera eccetera abbiamo visto insomma già da dall'incontro che c'è stato ieri a Mosca che non è assolutamente così però anche sul fronte diciamo economico nonostante le sanzioni eccetera la Russia sta continuando tranquillamente a esportare petrolio sta utilizzando delle triangolazioni stamani sul Financial Times si tornava su questo su questo argomento qui e praticamente insomma la Russia è isolata ma de che ma dove cioè ce lo dovrebbero spiegare poi alla fine ecco volevo dire quest'ultima cosa che l'avevo selezionata me l'ero messa lì da parte che volevo volevo dirti ecco non so se vuoi aggiungere qualcosa però direi che quello che dovevo dire l'ho detto Sì no su quella cosa lì della è che non siamo riusciti ieri abbiamo parlato appunto a lungo poi mi sa che oggi di torno ora vediamo un altro su questa cosa qua della visita di Xi Jinping oltre a questa appunto c'è stata come segnalavano anche in chat diciamo l'incontro tra Putin e i paesi africani diciamo dove appunto giorno dopo la due giorni dopo insomma sta abbastanza un po' imbarazzante mandato di cattura da parte della corte penale internazionale c'erano 40 paesi africani a Mosca in questo summit russo africano che però non abbia nei contenuti non ho visto di che cazzo abbiano parlato ora magari ricostruiamo un po' vedo però qua sulle prime pagine non c'è niente va bene buonissima la prima Matteo ti ringrazio tantissimo ci vediamo martedì prossimo va bene va bene ci sentiamo Giuliano grazie per l'invito grazie a te un abbraccione buona giornata ciao 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 e noi anche noi insomma abbiamo finito l'unica cosa appunto vi rimando a